I 3.500 allievi di Enaip provenienti da tutte le province del Veneto hanno festeggiato allo stadio Colbacchini la chiusura dell'anno formativo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Fuori Classe. C'è il momento del lavoro, il momento dello studio, ma c'è anche il momento del divertimento. Il momento del divertimento che è anche sport, che significa aggregazione, saper fare squadra, saper vivere insieme, trovare dei momenti di coesione. Bellissimo vedere i ragazzi, questi ragazzi giovani che stanno iniziando un'attività anche professionale, che però vogliono anche divertirsi fuori classe, cioè al di là della scuola, ma anche essere i primi nel mondo del lavoro. Occupare i ragazzi in un momento in cui la società problemi ne ha, ci garantisce una bella formazione. Fanno sport, fanno formazione, fanno cultura, crescono, diventano gli uomini del domani, si confrontano con i professori e anche i professori hanno trovato motivazione in questo fuori classe. Quindi una bella iniziativa, mi complimento con Enaip. Servono questi momenti di aggregazione che mettono al centro valori come quello del sacrificio, come quello della competizione e come quello dell'amicizia, che sicuramente aiutano ad affrontare in modo diverso e soprattutto in modo più preparato quella che è la vita di oggi.